Molti attori si sono cimentati nella rappresentazione del capolavoro martogliano, l'Altalena, ma non tutti sono riusciti ad interpretare questo testo come forse Martoglio l'aveva pensato. Noi stasera daremo un saggio e faremo un omaggio al grande autore belpassese. Donna Edina, hai da venire qui? No, non venire. Ma non potete stare qui nel parchetto, a gente parla. Non venire qui, aspetta, e se vuoi venire di fuori, aspetta qui, fino a che passa, fino a domani, fino a che volo, aspetta. Facete come volete chi volete capire. Sì, io lo so che non avete avuto il suo amore, Donna Edina. La sua pittita idrosità mezza nasciata. Donnelli, non ho mai più casa. Come? Stasera mi li mandavo. Ho venito come sei? Sì, dici che arrivavo sul rifugio di Biancavilla per vedere questa santaida. Io ci ho fatto andare al mio cammareggio. Io non ho mai più. Io mi sono a vibrare se avevo bisogno di qualche cosa. E scendete di questa altalena. Volate di questa altalena. Non potete stare qui. Non vorremmo la testa. E allora, donna Flavia? Non avete ciato per rispondere? Non hai lo di perdere. E avremo il suo sogno buono io. A farvi nascere questo ciato. A voi e al vostro figlio. Chi pretende di mio figlio? Si può sapere? Non è quello che è giusto. E accampiamo tutti in pace. Diversamente, sacco come mi devo regolare. Chi ti paga questa roba? Questa iscrivivera, questo cosa è. Io sono. Nero, che volete... ...che volete, marito? Venne prima di tutto per domandare le scuse per evasare le due grazie di catafise fino a quando hai giocato. Tutta ora venisce questa tenerezza. Tutto questo amore sviscerato ora vi venne. E' quando piangeva morta di fame e di freddo, voi! Ah, venemola! Ora venne per portare te con me. Perché se è cosa mia, io voglio vedere quei che vieni. Io so, Pono! Io, io, Pono! Ma voi che credete che sognuna di pigliare la sera così a piacere vostro? Mardo! Mahirica! Sì! Ora io mi chiamo come! Il Luigi mi chiami! Nellie! 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 Nellie, spazio! Nellie! Allora aveva chiamato a FISA un ufrazio? Ma allora chi era altalena o a cavalleria?